Ti consiglio di sbrigarti perché qui è andato tutto bene Ok, più o meno tutto bene, oh creeper cacchio! No, no, no! No, no, no! La sfida di oggi con il Lucky Block, cara Anna, sarà molto diversa a quello di cui sei abituata su questa mappa Cosa hai in mente? Una cosa molto difficile Dovremmo costruire una casa costruita soltanto con il Lucky Block E vincerà colui che riuscirà a crearla per primo Il vincitore avrà accesso a una cassa con buona armatura e buone armi per il duello finale Il perdente avrà accesso a una cassa schifosa con schifosa armatura e schifosissime armi Vabbè, ma posso, ok, già so che perderò, avrò io la cassa schifosa Non è detto perché questa volta non conta che la casa sia bella, brutta Conta solo che sia una casa Il punto è che siamo consentiti a darci fastidio l'un l'altro Devo romperci qualche blocchettino qua e là, insomma, sai? Qualche, hai detto tu qualche Sì, non troppo, c'è qualcuno, ok? Sei pronta? Sì, sono pronta Benissimo Allora via, mia cara Anna, via! I Lucky Block sono un materiale molto pericoloso con cui costruire Perché non puoi, se sbagli, metti caso, io adesso voglio decidere che voglio fare la porta, per esempio, qui, no? Cioè, devo rompere per forza di cose uno dei Lucky Block Ma potrebbe succedere un disastro E una volta successo il disastro È difficile rimediare al disastro Vedi Anna, per esempio, se per caso c'è uno arriva, non deve dire No, no Roba questo E ti è andato bene Ti è arrivata un'ascia Magari anche... Che si chiama Chopzilla Brava Ed è anche stilistico come pilastro, no? Secondo me ci sta bene come pilastro nella tua casa Dai Vabbè, lo puoi tolto Ti è andata benissimo Guarda, lo togli e tutto Ma ops Eh no Eh vabbè Ma se... E ora lì rimani No, 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 no Tappalo, tappalo Ok, ok, ok Era solo per dimostrare, ok? No Eh vabbè, un bicon, grazie Era solo per dimostrare, ok? Adesso continuiamo la costruzione, d'accordo? Sì, ma io come levo questo schifo? E poi ci sono problemi tuoi Ci rivediamo tra qualche minuto Ovviamente ne farò tantissimo Mamma mia, le romperemo tutta la casa adesso Facciamola costruire un pochino prima però Allora, io ho fatto un errore Perché io volevo mettere la porta a due qui È rischioso Oh, che porca miseria Ci hanno switched Ah no Sì Guarda, lo sei successo Vieni qui Ah, ah Ma dai Ah, che bello Ti sta bene Ma dai Io sto perdendo tempo a togliere questo schifo Ma tra tutto Amleno, quello si può togliere E questo no E c'è anche scritto una cosa trollosa Bene Questo problema è tuo Eh sì Mi dispiace Mi dispiace Veramente non mi dispiace proprio per niente Sono fatti i tuoi Ok Tanto la cassa bella sarà mia e quella schifosa sarà tua Ciao Guarda te Ma guarda te Adesso io come faccio Questo lucky block nero Rimarrà bedrockoso Più che altro Rimarrà parte della mia casa Ok Visto che la porta non posso farla da quella parte Mi tocca farla qui Speriamo che non succeda un disastro adesso Ok Poteva andare molto peggio Benissimo Ok Bisogna essere contenti Quando i lucky block si comportano bene Bisogna essere contenti Di questi però me ne servivano di più Maledizione Ne ho preso solo uno E me ne servono di più Devo fare i muretti di lucky block Perché vedete come funzionano È una roba fighissima Vedi Puoi creare dei muri Di lucky block Delle scale di lucky block Questi scivoli di lucky block È fighissimo Il prossimo episodio Potrebbe essere Dove creiamo uno scivolo di lucky block Che figata ragazzi Iscriveteci nei commenti Se vi farebbe piacere vederlo Sarebbe bellissimo Però Mi sa che devo andare a chiedere ad Anna Degli altri muretti Annina Eh ma vabbè No non ti voglio fare niente Ma guarda Appena sei arrivato tu Mi ha toccato rompere un lucky block E questo è un bel disastro Senti Io mi sono accordo Che per sbaglio Ho preso soltanto un muretto Una scala Una slab Non è che me ne puoi Me ne puoi dare un po' Ti penso io Tieni Grazie Ah che gentile Ok Grazie Ecco qua Le scale anche Oh che gentile Grazie mille Grazie Sempre la migliore Sempre guarda Io lo dico Sì 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 Cosa è successo Ti aiuto a rompere No 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 E vedi ti ho aiutato Ti è andato un blocco di smeraldo Vedi che fortuna Proprio oggi Sta andando tutto bene Continuiamo a costruire Quando non serve Eh lo so Channel switch Ah ok perfetto Ora che abbiamo altri di questi muretti Possiamo continuare la nostra struttura E la chi bloccosa Perché sarà pure vero che basta creare una casa Però sai Anche con la bellezza si guadagna qualche punto Ecco qui Facciamo l'alta 2 Tecnicamente così dovremo eserci Stessa roba che un po' fa schifo Però che volete fa Non si può rimediare Assolutamente alla presenza Di quel blocco di bedrock Farà parte della nostra casa Magari lo possiamo nascondere tipo però Potrebbe essere un'idea questa È molto pericoloso Ciò che stiamo facendo Con queste due casettine Molto pericoloso Ok Benissimo Circa meno quasi ci siamo E Anna E devo dire che è più tranquilla del previsto Pensavo che venisse più spesso A darmi fastidio Siccome io non so stare in pace e in armonia Vado qui davanti a lei E le do fastidio Ciao Annina E tu non venivi mai Ho detto boh No 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 Vattene via Aia Via Che male E cosa è successo C'era una strega Ho visto qualcosa Non lo so chi c'era Aspetta eh Vattene via E ma tu non mi vieni mai a dare fastidio Mi annoio Vengo a vincere Eh ma ci ho messo un quarto d'ora Per togliere quel pozzo maledetto Che il legno non si toglieva Ok Ok Ora io devo riuscire a salire sopra la mia casa Però mi spieghi come cavolo faccio Se metto dei lucky block è la fine Eh eh Io ho un sacco di blocchi Perché sai Non puoi usare Non puoi usare No 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 Eh Come no Sarebbe troppo facile No Se devi farti delle impalcature Qualcosa del genere Devi usare i lucky block Certo Ma non è giusto Vabbè io ho usato un beacon Però devi usare i lucky Eh allora io userò un beacon Uno E poi lucky block Ok Un lucky block No Lucky block Forza Brava Aspetta Bravissima Visto Oh no Mi tocca mettere un altro lucky block Questo distruggerà tutto Ehi 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 Anna Fuga 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 Cosa hai combinato Ti ho visto No Io sto qui a fare la mia casa Eh beh bene Comunque ti informo che io quasi Cioè oddio quasi finito non tanto Mi manca il tetto Ma poi ci sono Quindi Anche io Sì perché una casa per essere considerata completa No Cos'è successo Ne ho aperto uno E cos'è successo È uscito un signore cattivo Vai signore cattivo Devasta casa di Anna Ok Perfetto Io sto procedendo No ti prego aiutami No 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 Mi dispiace Oddio potrei È molto cattivo Oh mio dio sei molto cattivo Anna fai qualcosa Aiuto Anna Ce l'ha fatta Ok meno male Stava per distruggere l'intero universo E io te lo dico Ok Ora La mia casa è quasi completa Quindi se devi fare qualcosa Ti consiglio di sbrigarti Perché qui È andato tutto bene Ok più o meno tutto bene Creeper cacchio No 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 Mori Mori Schifo schifo Mamma mia stavo per far esplodere la casetta mia È lurido Ah non è esplosa No Peccato Non è esplosa Peccato un cavolo A te quanto ti manca Fa vedere Porca miseria Stai per concludere stai eh Ecco qua Ti rompo questo Questo E questo Fuga fuga No Dai Cos'è successo Anna vedo tutto buio Anna Eh Eh Che è successo Mi hai picchiato Che ne so Eh io sono molto immortale Devi stare attenta Non puoi mica picchiare così Porca miseria Dei lama Va bene Poteva andare peggio Come stai messa Eh sono morta Sto tornando Ah sei proprio morta Eh Tu pensa E nella tua mancanza Ci sono dei lama femmina Che si chiamano Le lavanda Le lidia Le lisa E le lauretta Eh vabbè Non lo so Forse se posso restringere Amicizia con loro Sicuramente Anche luisa Cioè guarda che bello Sono sicuramente Le simpatiche di me Di te Le linda È anche dentro casa mia Comunque io sto per Completare la mia casa Perché è una vera e propria casa Che si rispetti È una che ha il tetto completo Dritto così Per dritto E io Credo di aver finito Anche se Anche se In realtà Il tetto dovrebbe essere Più spiovente di così Per potersi Beh aspetta Ferma tutto Fatto cosa Prima di tutto Qua c'è una scaletta Quindi non hai fatto niente Ho ancora tempo di finire il tetto Ok Così Così E qui Finito Ancora Ma guarda che allora Così ho finito prima io Scusa Perché scusa È perché se non bisognava Fare il tetto full spiovente L'ho finito Anche io l'ho finito Vieni a vedere È chiuso Vedi è tappato Certo Pone il mio È tappato E la mia casa È anche più bella della tua Perché vedi Ci sono questi due muretti Molto agili Va bene Va bene O i muretti agili Metterò i muretti agili Eh sì Però io ho già finito Tu no Ma non è giusto Eh Secondo me È piuttosto giusto Invece Cioè mi sembra Proprio Sento quella giustizia Nel fatto che io Possa aprire la cassa buona E tu quella schifosa No perché io sono morta E mi sono dovuta fare Tutta la strada di ritorno Questo è vero Questo è vero Allora ti concedo una cosa Ok Vediamo le case Che cosa ne pensano Io spaccherò un blocco della tua Tu spaccherai un blocco della mia Quale si distruggerà di più Avrà perso Ok Ok Pronta Io spacco Questo qui No anzi scelgo bene Questo qui Beh Si è rotto un muretto Prova tu Un blocco Ma ne hai rotti due Tre anzi Guarda quanti ne hai rotti Si sono rotti da soli Vai Devi rompere un blocco Non è vero Hai rotto Non è giusto Porca miseria E io ne rompo tanti Uno Conigli Ok E un pozzo Si ma ne hai rotti due Guarda quanto hai sfondato tu Vieni qua Porca miseria Benissimo La tua casa non esiste più Ho vinto La mia casa Ah no Te ne ho rotto uno Tu ne hai rotti due Non è vero Dai Ok 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 Forse sono stato Non ti parlo più Forse sono stato un po' cattivo Ti concedo Qua sta andando tutto a fuoco Secondo me dovremmo fare qualcosa A riguardo Ma in ogni caso Ti concedo Di prendere tu la cassa buona Ok No ce la sto prendendo Ho spento il fuoco Come stai prendendo la cassa buona Si Ma non ti avevo ancora dato il permesso E' troppo tardi Addio Ma sei Oh voi proprio vincere Ma guarda che io sono fuoco Aspetta 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 Ok Io apro la cassa schifosa Un'armatura di spugna Seriamente Si E un fucilino triste E una pistola triste E tre mele Normali Si A te cosa c'era? A me c'erano tre mele dorate Ok Un'armatura di ossidiana Un lanciarazzi E una kappa E non è giusto E lanciarazzi A me l'armatura di spugna E quella l'armatura di ossidiana Ma che che Si Così impari a barare Ma no no Va bene va bene va bene va bene va bene Butto l'armatura overpowered Mi metto quella di spugna E poi ci affrontiamo L'hai voluto tu eh Mi hai incattivito Mister Spongebob Lion E' pronto alla guerra Iii mamma mia Cosa stai facendo? Ti sto mirando con lanciamissili E allora attacca se hai il coraggio Attacca Oh mamma mia Ok hai il coraggio Molto bene Si ce l'ho il coraggio Benissimo Allora adesso vediamo se hai anche la mira Oppure se sei così sbanunata Da colpirti da sola Dove sei? Ti vedo Dove sei? Io sono qui Oh mio dio Aia Beccati questo Hai visto che sei sbanunata Te l'ho detto che sei sbanunata Eh? Non è vero Non sono quella cosa lì Bruttanna sbanunata Viene qui Forza Hai il lanciamissili Qua non è arrivato niente Adesso lanciamissili è vero o finto? Aia No è vero È vero Sei sicura che sia vero? Dove sono le mie mele Normali Non ce le ho più Non ho fame Però una mela d'oro Ma non posso usarla Perché non era nella mia cassa Va bene Forza Vieni qui Vieni qui Sbanunata Eh? Ah! Porca miseria Funziona? Eh sì Funziona Funziona sì Però sei sbanunata allo stesso Dove sei? Ti vedo Anna Mettila No Sei tu che hai voluto la guerra Hai instigato lo SpongeBob Oh mamma mia Sei arrabbiata eh Vai via SpongeBob Sei arrabbiata eh? Vuoi la guerra? Dove sei? Che si impari a distruggere le case degli altri? Guarda che l'hai fatto anche tu E io sono stato onesto L'avevo rotto solo un blocchetto Beccati questo Tieni Tieni Ho finito i missili Bene bene Hai finito i missili Eh Anna sbanunata Vieni qui Che male ho tre cuori Quanti cuori hai tu? Tantissimi Così tanti che non neanche riesco a contarli Ho finito i colpi No 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 Aiuto Ma non ci ho preso neanche la volta Eh no pare di no Aiuto Posso ancora vincere Posso ancora salvarvi Anna sbanunata All'assalto Hashtag Aia Prendi Prendi Lo sapevo La casa schifosa Era veramente piuttosto schifosa Però eh Cosa potevo fare Più di così Eh beh Va bene L'ho preparata io Eh lo so Va bene ok ok D'accordo Hai vinto Effettivamente posso dire Di essere stato un po' cattivello Ti sono venuto a disturbare Un po' più volte Di quanto tu l'hai fatto con me Quindi tutto sommato Ti meriti questa vittoria Ok Anna sbanunata Vieni Ti regalo questa mela Ma sei proprio gentile Ok Quindi Per questa prima sfida Di costruzione Con i Lucky Block Io direi che possiamo Concludere qua Speriamo vi sia piaciuto Questo twist Nel format E fateci sapere Nei commenti Con un po' di censura Se volete di più Io durante il video Ho proposto Che potremmo provare La prossima volta A costruire due scivoli Di Lucky Block Bellissimo Potrebbe essere una figata Potrebbe esserlo Utilizzando quei blocchi lisci Di diagonale Che abbiamo Sì 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 Quindi fateci sapere Se volete quello E per questa volta La Lion E Anna la sbanunata Out Out Utilizzando Grazie a tutti.